Procuratore, i temi di questo incontro? Dunque, hanno riguardato, io innanzitutto ho parlato di una figura importante, che è di Antonio Manganelli, di cui sono stato amico per tanti anni, che abbiamo sviluppato insieme una serie di indagini quando lui era questore di Napoli e io ero componente della direzione distrettuale antimafia di Napoli, e che poi i rapporti che si sono sviluppati poi nel corso del tempo. E abbiamo spiegato che l'importanza dell'essere non burocrati, investigatori, investigatori significa saper disvelare una realtà e quindi saper penetrare all'interno di una certa situazione e costruire attraverso strategie investigative un'individuazione di una realtà. E bisogna essere dei bravi investigatori, e per essere dei bravi investigatori bisogna costruire una rete di informazione sul territorio. E quindi bisogna avere un buon rapporto con i cittadini. E i cittadini sono la vedetta del territorio, e sono le nostre vedette nel comunicare con la procura, con la polizia, con le forze di polizia, una serie di fenomeni. Quindi il cittadino, ma anche i giornalisti, siete le nostre vedette. Come ha trovato la procura? La procura abbiamo di magistrati bravissimi, guardi. Noi abbiamo un problema logistico, le sa le situazioni in cui si trova il tribunale, non vi devo spiegare qual è la problematica del tribunale, però abbiamo di magistrati bravissimi. Io sono orgoglioso della qualità dei magistrati che ho. Della quantità? E della bravura anche del personale amministrativo che sopporta. E quindi questo mi fa ben sperare in ottimi risultati investigativi sulla quantità. Sarà mio compito cercare di incrementare anche la qualità, perché noi dirigenti dobbiamo essere anche bravi nel saper reperire le risorse.